Il Consiglio Comunale di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, ha approvato ieri sera il triennale dei lavori pubblici dal 2020 al 2022, il piano delle allineazioni e valorizzazioni immobiliari, sempre per i prossimi tre anni, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma la cosa più importante, il bilancio di previsione fino al 2022, insieme al documento unico di programmazione, ossia il DUP. Il voto è stato sancito con 14 favorevoli e 5 contrari dell'opposizione. Adesso, probabilmente dopo questo importante atto approvato, l'amministrazione si avvia alle votazioni previste per il prossimo mese di maggio. Sul voto del bilancio previsionale del Comune di Battipaglia interviene Vincenzo Inverso, coordinatore di Italia Viva Battipaglia. L'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione chiarisce e fissa tre punti. Il primo ratifica il fallimento e la fine dell'amministrazione francese, aprendo definitivamente le porte alla campagna elettorale in città. Poi stabilisce in modo chiaro chi in Consiglio Comunale è con la francese ed infine rende alla città un quadro preciso dei fatti, dei singoli e delle parti in campo, su cui poter valutare per il presente e soprattutto votare in futuro. Grazie